Tu hai introdotto una nuova maniera di concepire i dolci lasciando intatto la percezione del gusto e del piacere ma alleggerendoli, è vero? Certamente, non vogliamo fare passeggeria dietetica né niente perché non saremmo neanche capaci, però di alleggerire il prodotto lasciandolo nel suo gusto, la cioccolata che sa di cioccolata, la vaniglia, che sa di vaniglia, però per fare la vaniglia bisogna mettere una vaniglia buona, un Tahiti o qualcosa del genere che dà quel sapore intenso, non polveri sintetiche come si parla. Qualità delle materie prime? Qualità soprattutto delle materie prime che con gli anni siamo riusciti a selezionare, abbiamo trovato i canali giusti e lavorando con materie prime buone ovviamente mettendoci un po' di buona volontà e di passione si riesce sempre a ottenere un prodotto buono, valido. Cos'è che hai fatto? Prendiamo la crema pasticcera che è quella più conosciuta e quella più semplice, dov'è che sei intervenuto per alleggerirla? La crema pasticcera è quello che dovrebbe distinguere la pasticceria perché ogni pasticcere ha il suo modo di vedere la crema pasticcera. Noi abbiamo tolto le uova e la farina rendendola più soffice, più leggera, più digeribile. Il dolce viene a fine pasto quando la gente ormai è sazia, sbuffa, non vuole mangiare più e dobbiamo incentivarli a creare un po' di curiosità in queste cose. Questa crema mi dà dei risultati buoni, perché al palato è buona, non rimane molto a lungo perché va via, scappa, cercando sempre il gusto giusto e bilanciato, viene bella vellutata, lì abbiamo fatto delle prove, ci siamo un po' abiliti, abbiamo votato via, prove, su prove... Perché l'avete trovata? Finché, così, a un certo punto abbiamo preso la strada giusta e siamo riusciti a trovare questo sistema. Bene, un altro aspetto, perché sono così leggere le tue brioche, che è un po' la mia, confesso, la mia passione? Ma sono leggere perché vengono lievitate in maniera naturale, a temperatura ambiente e vengono lievitate 15-18 ore, dipende dalla stagione estiva. Quindi tu inizi il giorno prima per essere pronte alle 6 dell'indomani mattina? Per cui sono già sul carrello 3-4 ore, verranno cotte domani mattina alle 6, per cui hanno tutto il tempo di lievitare con calma, sempre per il fatto che non lievitino nello stomaco, perché farebbe la brioche un prodotto non digeribile, stufa, palato... Quanto sta a cucinare la mattina la brioche? Quanto tempo ha di cottura? La brioche 15 minuti e è cotta. A quanti gradi? È una mia curiosità. 170 gradi, 170 gradi e 15 minuti. 15 minuti? Le tue hanno poi, sono 9 tipi di brioche... 9 gusti, facciamo quella crema, marmellata di albicocca, 100% di albicocca, con la cioccolata, con albicocca, candite, la crema con le mele, mandorle, con la crema dentro che sono... Quelle classiche? Oltre a quella vuota? La vuota per i puri. Per i puri, per i puristi? Allora, per parlare di... noi siamo qui all'interno di Friuli Future Forum, quello che stiamo facendo è tutto... fa parte di questo progetto che vuole guardare al futuro per quanto riguarda il cibo. Tu sicuramente stai sperimentando e stai pensando a qualcosa, a qualche dolce che farai o come mangeremo i dolci in futuro? Ma per come mangeremo i dolci in futuro bisognerebbe fare un po' di scuola a chi dovrebbe mangiarli perché vedo che la gioventù non è molto propensa a questi sacrifici che uno fa la mattina, si alza, cerca di migliorare, di fare. Il lavoro tu dici? Farei vedere un po' come si lavora, come nasce, come si crea, come si studia, come si fa queste cose, in modo da affinare il palato di un giovane che dovrebbe capire la differenza fra una brioche da autogrill, da una brioche... Siamo noi che dobbiamo dare questo insegnamento. Mi piacerebbe parlare con... non dico organizzare dei corsi ma chiamare dei giovani nel mio laboratorio, magari pomeriggi, spiegargli come funziona un laboratorio, come si fa, come si crea, come far vedere come nasce una brioche, in modo che uno capisca il lavoro che c'è dietro di... Potremmo chiederlo a Friuli Future Forum che venga a fare questo, a vedere all'interno del laboratorio come si lavora e come si fa? Sì, perché bisogna fare divulgazione di notizie, far vedere, perché più si fa vedere tutto la gente non sa i sacrifici che ci sono dietro, come i panificatori, si parlava prima. Penso che il futuro sia lì, perché mangiare... adesso si trova di tutto e di più. Bisogna tornare con una volta a mangiare polenta e formaggio, apprezzare polenta e formaggio. Buona la polenta e buona il formaggio, però. La gente di oggi, la gioventù di oggi, non lo sa. Ma nessuno gliel'ha insegnato. Perché nessuno forse gliel'ha insegnato. Io a mia figlia la portavo da picco a mangiare polenta e formaggio, salame, anche nei ristoranti di lusso, però deve capire la differenza fra un buono o un cattivo e un fatto bene. Abbiamo qualcosa da fare.